Sono Emma Bonanzea e vengo da Pinerolo. Io mi chiamo Jasmin Zawi, vengo da Torre Pellice. Sono Paolo Odetto, vengo da Bagnolo, Piemonte. Sono Umberto Molinero, vengo da Pinerolo. Sono Nicole e vengo da Orbastano. Mi chiamo Alessandro Lamonaca, abito a Pinerolo. Sono Emanuele e vengo da San Pietro Vallemina. Sono Costancarlo, vengo da Vilar Perosa. Sono Rebecca Vorera Ramos e vengo da Pio Sosco. Sono Bertea Gisella e vengo da Vigone. Sono Alessandro Vaira, vengo da Roletto. Sono Nicole, vengo da Pinerolo. Mi chiamo Lupo Manuel e vengo da Irasca. Mi chiamo Lucrezia Pailo, vengo da Bagnolo, Piemonte. Sono Incandello Lorenzo e vengo da Roletto. Mi chiamo Gia Canone e sono di Porte. Sono Malia Angelica, vengo da Pinerolo. Sono Cristian Petrini e vengo da Pinerolo. Sono Alessia Pipino e vengo da Pinerolo. Mi chiamo Agnese Triberti e vengo da Bibiana. Io sono Anna Calvelli, vengo da Piscina. Mi chiamo Ginevra Canavosio e vengo da Pancalieri. Mi chiamo Giada Darò e vengo da Cercenasco. Stiamo facendo questo progetto chiamato Aula 12. È un progetto che è nato con la collaborazione dell'Eco del Chisone e i diversi studi del Pinerolese. Aula 12 è un progetto PCTO che coinvolge diversi studenti da diverse scuole di Pinerolo. E lo scopo è quello di produrre vari articoli di giornale, i quali saranno poi pubblicati.